La Commissione Bilancio, preseduta dal consigliere Toto Scerra, ha annunciato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore al bilancio Fabrizio Morello. La Commissione ritiene infatti che l'esponente della Giunta Messinese non conosca le procedure finanziarie relative all'approvazione del bilancio di previsione. Qualche giorno addietro, proprio Scerra, ha evidenziato come la Commissione non sia stata posta nelle condizioni di esprimere un parere sul bilancio di previsione 2016 perché ad oggi mancano le delibere relative al piano triennale e al piano di alienazione. Per tutta risposta Morello nell'affermare che le esternazioni di Scerra erano frutto di un'insolazione, aveva altresì rilevato che le procedure erano state regolarmente eseguite secondo la normativa. La Commissione invece ad oggi non è in possesso delle delibere sul piano triennale e sul piano di alienazione, quindi non è nelle condizioni di poter esprimere alcun parere. La decisione di presentare una mozione di censura è stata annunciata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale erano presenti anche i consiglieri Enzo Cirignotta, Romina Morselli e Simone Morgana. Oggi, 27 agosto 2016, ad oggi non è arrivata in Commissione il bilancio né la delibera relativa al piano triennale delle opere pubbliche né quella relativa al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio comunale. Due delibere importantissime perché vanno valutate unitamente dal bilancio di previsione e quindi eventuali ritardi nell'approvazione nell'iter è da addebitare all'amministrazione comunale e non alla Commissione che sta facendo il suo lavoro con serietà e trasparenza. Quindi condanniamo fermamente e stigmatizziamo fermamente il comportamento dell'assessore Morello e presenteremo una mozione di censura in Consiglio Comunale invitando fin d'ora all'assessore Morello per il bene della città a fare un basso indietro rassegnando le sue demissioni. L'assessore, il ministro del Tesoro aveva dichiarato che aveva portato tutto in Consiglio Comunale in realtà invece ancora dopo la nostra richiesta della Commissione per quanto riguarda gli atti propedevici all'approvazione del bilancio manca il piano triennale delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni che ricordo al ministro del Tesoro sono atti propedevici per l'approvazione del bilancio. Intanto chiediamo di accelerare l'iter, chiediamo all'amministrazione tramite gli uffici competenti di portare alla presenza del Consiglio sia il piano triennale, quindi la proposta di delibera di Consiglio Comunale per il piano triennale sia quello del piano delle alienazioni. Noi l'abbiamo smendito stamattina in questa conferenza che abbiamo fatto perché noi abbiamo eseguito comunque tutte le normative, forse l'assessore non conosce le normative. Con questa insolazione io ho capito che il bilancio è incompleto, non possiamo dare parere quindi mi sa che qualcuno con l'insolazione conosce l'iter e forse aumenta l'intelligenza che rispetto a qualche altro ministro del Tesoro. Sinceramente sono amareggiato e deluso perché io consideravo l'assessore sul piano personale una persona squisita ma ha avuto una caduta di stile nei confronti sia del Presidente della Commissione non dico nella mia persona, sia sul Presidente della Commissione ma su tutta la Commissione e di conseguenza su tutti i consiglieri comunali perché lui non può permettersi il lusso di dichiarare cose false e lui con quelle sue dichiarazioni ha dichiarato il falso dicendo che era tutto pronto. In realtà noi, approfondendo, ci siamo resi conto che qualcosa manca ed è questo. Quindi invito dopo questa mattina la mozione di censura all'assessore a dimettersi perché la città non lo merita e non merita un assessore inadeguato, incompleto e addirittura che ignora le normative.